Ovviamente ho sconfitto Cronica. A quel punto non avevo dubbi su come avrei usato la Glessidre. Per cancellare la disfatta del mio avo, il grande Kung Lao. Nella mia linea temporale generale, Kung Lao è il campione indiscusso del Mortal Kombat. Il regno della Terra è imbattuto. Per generazioni, il suo esempio ispira milioni di ragazzi a unirsi alla società del lotto bianco per difendere il regno della Terra, incoraggiando a loro volta i ribelli a rovesciare Shao Kahn nel regno esterno. Così si riscoglie la pace. Fin quando, inevitabilmente, non sopraggiunge un nemico più potente che trova il regno della Terra difeso da Kung Lao, signore del tempo e guerriera supremo immortale. Prova a far meglio, Liu Kang. Prova a far meglio, West, Norval Betr 911